la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno gentili telespettatori ben ritrovati a questa nuova edizione con la rassegna stampa di Uno News andiamo subito a sfogliare le pagine dei quotidiani partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale vediamo il titolo di apertura una mail segreta anticorrotti Cantone promuovere gli informatori nella pubblica amministrazione l'agenzia delle entrate attiva una posta elettronica criptata per le denunce anonime dei dipendenti andiamo avanti con gli articoli correlati nella fotonotizia la partita del Quirinale Colle si cerca un big per il dopo napolitano Prodi a Palazzo Chigi Intanto il commento così si rischia il primato del sospetto Cambiamo argomento ma restiamo sulla politica nazionale vediamo il premier Renzi le ultime dichiarazioni andiamo di fondo Olimpiadi 2024 l'Italia si candida a Napoli calcio e pallanuoto Renzi partecipiamo per vincere vediamo nell'analisi un'occasione per il paese quindi le Olimpiadi considerate un'occasione per lo sviluppo del paese per la crescita andiamo a centro pagina nella fotonotizia Benigni lo show Benigni e la magia del racconto di Dio mentre di spalla l'annuncio Treni dal 2022 si va in due ore da Napoli a Bari Continuiamo il caso il forfetti del Rio non fermi il dialogo per le notizie di taglio basso se i figli parlano con la lingua del dolore a Ischia una coppia in frantumi o una ragazza che tenta il suicidio Continuiamo Blitz in un bar terrore integralista a Sidney morti sequestratore e due ostaggi quindi per la cronaca dall'estero sempre di taglio basso troviamo le notizie di sport la lettera o meglio le dichiarazioni nei confronti di Rafa Benitez il tecnico del Napoli caro Rafa cambiare modulo non è reato azzurri a un bivio stagione a rischio fallimento senza una svolta reale e lasciamo questa prima pagina del mattino nazionale e passiamo ora alla prima pagina del mattino di Salerno si torna sul processo Crescent sono stati chiamati a testimoniare tre ministri vediamo il titolo processo Crescent tre ministri in aula Franceschini Brei e Lupi citati come testi dalle associazioni ambientaliste udienza il 23 l'architetto Boigà chiamato con l'ex primo cittadino De Biase per fornire spiegazioni andiamo avanti la sentenza nella fotonotizia a testa di maiale al sindaco condannato a tre anni vediamo a centro pagina vendeva la figlia condannata a quattro anni la madre in cambio di regali e pochi euro offriva la sua ragazzina all'orco di turno materno verdetto identico anche per il sessantenne che approfittava della minore e ancora l'inchiesta donna carbonizzata chiusa l'indagine accuse all'amante nella fotonotizia invece andiamo a Rocca d'Aspide Raid e Rogo distrutte le ambulanze trovate tracce di benzina sull'asfalto approfondiremo questa notizia nelle pagine successive ora ci spostiamo di fondo lo scontro sovraindendenza il governo conferma sede a Salerno e per le prossime elezioni regionali De Luca e Cozzolino si marcano a zona sacre le primarie andiamo di spalla l'intervento ciao Porto e i politici che fanno mentre per i trasporti il bus non passa denunce con un click infine di taglio basso questa prima pagina del mattino di Salerno chiude con la festa auguri vittoria trisnonna nata 107 anni fa vediamo una parte dell'articolo è la le trisnonne più longeve d'Italia il secolo di vita lo ha superato 7 anni fa figli ultra settantenni e decine di nipoti e pronipoti numeri da record che continua a collezionare Vittoria Balbi che ieri circondata dall'affetto di familiari e amici ha festeggiato in allegria i suoi 107 anni che ha raggiunto anche grazie ad una sana alimentazione non mangio mai fuori pasto dice e consumo molte verdure e tanta frutta è nata a Rocca Gloriosa il 15 dicembre del 1907 lasciamo ora questa prima pagina del mattino di Salerno passiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie del nostro territorio si apre con la notizia appena vista in prima pagina di Rocca d'Aspide vediamo infatti il titolo Raide e Rogo ambulanze distrutte ha piccato il fuoco ai mezzi della Cop Valcalore trovate tracce di benzina le fiamme hanno lambito anche la sede del comune i volontari mai minacciati l'inchiesta indagine a tutto campo ma spunta la pista del nuovo bando per il servizio vediamo una parte dell'articolo due incendi ai danni di altrettanti ambulanze sono stati appiccati lunedì notte a Rocca d'Aspide due mezzi di soccorso dell'associazione di pubblica assistenza Valcalore erano parcheggiati rispettivamente all'esterno e all'interno di un'area coperta che si trova sotto i locali che ospitano la scuola media e l'aula consigliare a lanciare l'allarme intorno alle 2.30 di lunedì è stato un addetto della vigilanza privata che ha allertato il personale di soccorso andiamo avanti ci spostiamo sul caso del distretto sanitario trasferimento da sala consiglina a Sant'Arsenio Echerell vediamo il titolo distretto sanitario lite tra sindaco e vice a colpi di insulti scontro su facebook tra amministratori di Sant'Arsenio e sala consiglina c'era una volta la lotta su di documenti ufficiali poi è arrivato il talk show e ora ecco i social network il confronto politico che spesso si trasforma in lite furibonda lasciamo quest'argomento andiamo ora di spalla il titolo avvalo della Lucania Yale posti a rischio sitine pressing su provincia e ministro dal ministero dell'ambiente a striscia la notizia fanno appello a tutti i lavoratori della Yale che rischiano di rimanere senza lavoro il 31 dicembre il CDA della società deve essere sciolto il vertice variante junior incontra Canfora soluzione complessa ma sblocchi possibili e lasciamo anche questa pagina del quotidiano il mattino passiamo ora alle pagine del quotidiano la città vediamo che si parla della questione metro mancano i soldi per continuare con il servizio vediamo infatti il titolo non ci sono più soldi per la metro come vediamo il titolo molto semplice del quotidiano la città e spiega l'assessore municipale Cascone silenzio dalla regione non possiamo accollarci il servizio nessuna intenzione di tagliare le corse CSTP così come chiesto per far viaggiare i treni andiamo avanti la notizia di apertura la approfondiremo nelle pagine successive ora vediamo un'altra questione sempre dedicata a Salerno nella fotonotizia Crescent negozi dimezzati dopo la limatura della soprintendenza le variazioni al PUA di Santa Teresa conseguenti al parere vincolante della soprintendenza dimezzano i negozi previsti nell'area del Crescent nella seconda stecca di Piazza della Libertà ci saranno invece attività di interesse pubblico il comune di Salerno pensa anche a degli infopoint ed ad un punto di primo intervento andiamo al centropagina PD battuto senza Udcsl regionali per il segretario Landolfi l'alleanza unica strada per vincere il segretario provinciale del PD Nicola Landolfi lancia l'alleanza con Udcsl per le regionali senza di loro si perde intanto Cozzolino ribadisce sulle primarie non si torna indietro De Luca sarà giovedì a Napoli continuiamo Salerno a Busi parla la madre del 14enne di Pianura e ancora Costiera Amalfitana chiusa appaltati i lavori vediamo le notizie di spalla la cronaca spending review il comune Italia 400 mila euro di straordinari ancora il processo l'abbiamo visto anche sulle pagine del mattino testa di maiale metodo mafioso al condannato ricordiamo la testa di maiale fatta recapitare lo scorso anno al sindaco di Salerno Vincenzo De Luca mentre a Cava dei Tirreni anabolizzanti subito a giudizio 5 indagati per quanto riguarda invece lo sport salernitana il sogno dell'ex con Messina la partita degli incroci parla Grassadonia e ancora Europa League il Napoli ieri sorteggi quindi il Napoli affronterà il Trasbord Zone la squadra turca nei sedicesimi di finale lasciamo l'Europa League andiamo sullo sport del territorio Cavese la carica di Agovino nel mirino evacuo e lasciamo questa prima pagina del quotidiano la città approfondiamo ora proprio la questione che abbiamo visto in apertura quindi il titolo di apertura dedicato alla metro quindi andiamo sulla prima pagina del mattino del scusate della città dedicata a Salerno vediamo il titolo il comune non può accollarsi la metro l'abbiamo visto il titolo di apertura l'assessore Cascone nessuna notizia dalla regione sulla proroga del contratto e scadenza il 31 dicembre il servizio è a rischio continuiamo non taglieremo le corse del CSTP per non penalizzare alcuni utenti andiamo di spalla a Canfora vittime dei ritardi nei pagamenti per quanto riguarda invece la notizia ritrovata nel dettaglio basso orario unico nuova mobilità provinciale dal primo gennaio i cittadini potranno connettersi ad un portale e segnalare i disservizi in tempo reale restiamo a Salerno occupiamoci ora invece del Crescent sulla pagina successiva sempre della città Crescent i negozi vengono dimezzati nella seconda stecca della piazza attività di interesse pubblico il comune pensa a infopoint e aree di primo intervento vediamo una parte dell'articolo negozi dimezzati in favore di attrezzature di interesse pubblico più parcheggi verde nell'area di sedime della torre di autorità portuale che troverà invece posto nella zona dove attualmente si trovano alcuni prefabbricati tra cui la casa del marinaio che verranno rasi al suolo sono queste le principali novità contenute nelle variazioni parziali al pua del comparto primo di Santa Teresa adottate con apposita delibera dall'aggiunta comunale in conformità alla parere vincolante della soprintendenza sul crescent e poi vediamo una parte del progetto andiamo avanti l'assessore De Maio carichi insediativi inferiori a quelli fissati dal PUC 30 giorni per le osservazioni per le notizie di spalla sempre su questa pagina le prescrizioni altezze e ripristino della costa e ora breve break pubblicitario riprenderemo tra pochissimo per sfogliare le altre pagine dei nostri quotidiani bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa che apriamo con le pagine della nuova del sud quindi andiamo a vedere quali sono i principali argomenti che interessano la regione a noi vicina vediamo il titolo di apertura il fatto non sussiste bubico assolto cadono le accuse per la consulenza inutile conferita nel 2005 ieri la pronuncia del tribunale di potenza il viceministro dell'interno aveva rinunciato alla prescrizione e sentenza toccasana per la politica lucana restiamo a centro pagina scampato pericolo ora c'è attesa per rimborsopoli ancora dopo la riforma 518 esuberi nelle province lucane sfida impossibile ricollocarli il paragone con Roma 837 eccedenze dall'idea di quanto sia complicata la situazione spostiamoci di taglio alto l'economia della basilicata resta in recessione i dati del terzo trimestre del 2014 non lasciano dubbi pilla a meno 1,9% nel 2015 non migliorerà le proiezioni macroeconomiche di ottobre di Union Camere prospettano per il 2014 una contrazione del pil lucano dell'1,9% in netto quindi peggioramento la morte la morte è un'economia al collasso che fa segnare una disoccupazione record intanto a potenza la seconda edizione di Impasta restiamo su questa prima pagina di La Nuova del Sud tante storie che chiedono giustizia a potenza il corteo per le vittime della mala sanità appello ai giudici basta archiviazioni e ancora modifiche all'articolo 38 il costituzionalista di Salvatore per le regioni Vittoria Apparente Tecnoparco il comitato incontro il prefetto pretendiamo sicurezza e ancora poste a rilento a bella computer e telefoni in tilta a rio nero code e spazi stretti veniamo che la prima pagina di La Nuova del Sud chiude con le notizie sportive serie D la cava e del potenza entro stasera almeno due colpi lasciamo la basilicata e andiamo ora sulle pagine di cronache del Salernitano quindi torniamo nella nostra provincia e in questo caso il titolo agguato a Maesto Junior omicidio stellato per i giudici il collaboratore di giustizia De Simone è attendibile anche una donna coinvolta nei preparativi per assassinare Luigi lo rivela l'ispettore Raffaele Principe fu arrestato davanti ad un locale mentre consegnava la droga vediamo le notizie nel box in alto Landolfi sia all'Udc ma senza il nuovo centrodestra regionale il segretario del PD avvisa i demitiani continuiamo 7 mila euro a De Luca per la testa di Maiale tre anni a De Martino e risarcimento danni torniamo in basso sopraindendenza archeologica il ministro Franceschini Salerno sede e ancora via anche gli straordinari comunali taglia gli stipendi e rottura con De Luca vediamo quali sono le ultime notizie riportate su questa prima pagina di Crona che San Marzano sigiglia cinque aziende legate al boss Messina Denaro sono riconducibili all'imprenditore Luigi Torino a Pagani prostituta di notte imprenditrice di giorno ecco i prestanome per la truffa all'Inps mentre per lo sport battipagliese società in crisi Ferrara abbandona questa è la prima pagina di Cronache del Salernitano restiamo su Cronache del Salernitano vediamo invece le notizie che interessano in particolare il nostro territorio si torna sull'inchiesta Cernobil riprende quindi il processo vediamo il titolo di apertura processo Cernobil da domani in aula Tribunale di Salerno terza sezione penale PM Ceglie presidente dottoressa Allegro finalmente la prima udienza sullo smaltimento illecito di rifiuti in provincia di Salerno slittamento dovuto a difetti di notifica per ben 19 imputati dei complessivi 38 il Codacons tra le parti civili 4 le aree sequestrate vediamo una parte dell'articolo domani il Codacons nella qualità di parte civile sarà presente in aula per il processo Cernobil l'avvocato Matteo Marchetti vice segretario nazionale Codacons che esprime ancora una volta rammarico persi altri 8 mesi per il problema legato alle notifiche degli atti imputati ricordo che su 38 imputati per ben 19 la notifica non era regolare che il carico poi di lavoro del collegio ha fatto il resto ed ecco che tutto il tempo recuperato durante l'udienza preliminare è stato completamente vanificato con il rischio che la prescrizione annulli uno dei più importanti processi per smaltimento illecito di rifiuti per quanto riguarda invece lo spettacolo Teggiano il successo del Vallo di Diano Fluid Festival ricordiamo domenica scorsa il terzo appuntamento e ancora a centro pagina Polla bilancio manovre contabili artefatte Coppola attacca la giunta comunale per la vendita degli immobili vediamo Antonio Coppola del gruppo extra consigliare insieme per Polla come ex consigliere comunale ha sottolineato a suo tempo come il piano di alienazione dei beni comunali documento che correde al bilancio di previsione sin dalla sua apparizione come strumento economico sia stato utilizzato dalla maggioranza come un artificio contabile teso a raggiungere l'equilibrio di bilancio infatti con la supervalutazione degli immobili di vendita si andava a coprire il sempre più vistoso buco dovendosi tamponare anche i debiti fuori bilancio cioè assunti in spregio alla normativa contabile intanto ad Atena Lucana carabinieri spettori del lavoro S.I. discoteca multata per irregolarità fiscali mentre Arshish è stato trovato un giovane in possesso di Arshish ed è stato segnalato sempre dai carabinieri della compagnia di sala Consilina vediamo che anche cronache del Salernitano sulla pagina dedicata al Vallo di Diano si occupa della questione distretto vediamo sala Sant'Arsenio per il distretto 72 lo scontro va su Facebook altro che unità territoriale del Vallo di Diano lo scontro istituzionale tra comune di sala Consilina e quello di Sant'Arsenio per la sede del distretto sanitario si fa sempre più aspro e approda di rompente ormai senza freni addirittura su Facebook vediamo di Taglio Basso a Caggiano a Castello un incontro tra comune BCC e Cavaliere Templari queste le pagine di cronache del Salernitano restiamo sulle notizie del Salernitano ma cambiamo quotidiano passiamo su Metropolis vediamo invece come apre Metropolis qual è il titolo di apertura vendeva la figlia condannata il caso shock di una ragazzina a 13 anni a Salerno inflitti 4 anni alla madre di Matierno la giovane era costretta a intrattenere un imprenditore dell'agro in cambio di regali andiamo avanti a Battipagli i genitori fanno pace ridateci i nostri bimbi mentre a Salerno testa di maiale a De Luca tre anni a De Martino per le notizie di spalla Scafati nascondeva i bambini alla sua ex compagna non andate a scuola e sempre a Scafati max anticipazione di cassa chiesti 12 milioni spostiamoci ora a centro pagina Salerno i giudici De Simone pentito attendibile sempre Salerno salta il rinnovo del contratto e lite tra comune e sindacati andiamo restiamo a centro pagina ma ci spostiamo di spalla San Marzano sul Sarno sigilli al prestanome del capo dei capi Vincenzo Torino ritenuto vicino al boss mafioso Messina Denaro mentre a Pagani emergenza sicurezza in città arrivano cinque vigili urbani vediamo lo sport sempre per Metropolis fra campo FGC lo titolo Monaco lo scontro infinito vediamo un'immagine di Lotito mentre per la Salernitana il calciomercato Aroni che è pronto alla firma spunta Donna Rumma per la serie D invece la battipagliese è nel caos lascia il patron Ferrara andiamo avanti vediamo le notizie che interessano il nostro territorio che interessano la parte sud della provincia di Salerno sulla pagina proprio dedicata alle notizie dalla provincia vediamo il titolo i genitori tornano insieme si vogliono i loro tre figli i fratellini furono trovati dai carabinieri di battipaglia per strada in pigiama inoltrata la domanda di affidamento al tribunale dei minori vediamo furono trovati a vagare per le strade di battipaglia di notte con il pigiama alla ricerca della madre cacciata di casa dal padre adesso i genitori fanno pace e chiedono l'affidamento dei propri figli potrebbe presto concludersi la vicenda dei tre fratellini della cittadina della Piana di 14, 12 e 11 anni i protagonisti nello scorso ottobre della vicenda di violenza familiare andiamo avanti a distanza di quasi due mesi la coppia chiarisce le divergenze attesa per la risposta dei giudici continuiamo a Rocca d'Aspide ambulanze in fiamme a fuoco due mezzi di soccorso di una Onlus ritrovate tracce di benzina c'è l'ipotesi del dolo ad Eboli rapinati due distributori di carburante mentre di taglio basso ancora Eboli primario sospeso rigettato il ricorso e a Battipaglia sempre cronaca droga in auto in manette corsa folle sulla tre con un chilo di fumo arrestato il 52enne Gerardo Presta di Sapri a folle velocità sull'autostrada viene fermato e trovato in possesso di un chilo di droghe carabinieri di Battipaglia agli ordini del capitano Giuseppe Costa hanno arrestato un 52enne di Sapri Gerardo Presta già noto alle forze dell'ordine in seguito ad una segnalazione di alcuni colleghi in servizio lungo l'autostrada Salerno Reggio Calabria il nucleo radiomobile è riuscito ad intercettare e a fermare l'auto l'uomo ha balbettato una banale scusa e ha una sua giustificazione che ha indispettito ancora di più i carabinieri vediamo le notizie in breve riportate di spalla Bellizzi l'opposizione Bacchetta Volpe Agifoni Vallepiana Bonifica Amianto ecco gli interventi mentre a Vallo della Lucania assistenza sociale fondi per i disabili e infine a Castellabate cimitero comunale via all'ampliamento chiudiamo qui questa rassegna stampa vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con il TG di Uno News grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti